Un'azione decisa per contrastare la cosiddetta malamovida della capitale, potenziamento dei controlli e costante monitoraggio dei social, perché su questi canali vengono organizzati i scontri tra bande di giovani e postate le immagini di aggressioni in diretta e la linea stabilita in prefettura nel comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico che si è appena concluso a preoccupare l'escalation di violenza. L'ultimo episodio, pochi giorni fa, alla stazione Garbatella, un'istruttrice di palestra è stata aggredita da quattro bulle. Sono stata minacciata, mi hanno tirato una bottiglia, ha raccontato la trentenne. Potrebbero avere le ore contate perché gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere. A incutere timore, bande di giovani tra i 16 e 20 anni si muovono soprattutto lungo il tratto della metro B, scavalcano i tornelli, azionano gli allarmi antincendio, molestano i passeggeri e a volte li rapinano. Bande come quella del Colosseo, di cui potrebbero fare parte anche i due diciassettenni arrestati per la rapina e lo stupro a madre e figlio, avvenuto una settimana fa tra Centocelle e Casal Monastero. Ma sono diversi gli episodi degli ultimi mesi che allarmano. A fine gennaio, un vigilante alla stazione Rebibbia è stato costretto a sparare alcuni colpi in aria per difendere un ragazzino aggredito da un gruppo di giovani. A metà febbraio, a largo Agnesi, è scoppiata l'ennesima lite, è spuntato anche un coltello e solo l'arrivo delle forze dell'ordine ha evitato il peggio.